Kristen Stewart Kristen Stewart, in passato l'amore mi ha completamente devastata Kristen Stewart è una delle dieci interpreti più pagate del mondo. È diventata famosa grazie alla saga Tvigt, ma da allora le cose per lei sono parecchio cambiate. Dalla storia d'amore idilliaca con Robert Pattinson, la Stewart ha vissuto tante altre microstorie sia con uomini che con donne, fino ad arrivare a Stella Maxwell, con cui ora si parla di un possibile matrimonio. Le sue recenti rivelazioni però hanno stupito tutto il mondo, la bella e tenebrosa Kristen in realtà ha fatto conoscere la sua fragilità e tutto il dolore che ha provato per le sue storie passate. Amori devastanti che l'hanno fatta crescere. Kristen Stewart ha 27 anni, ma ha già sofferto pene d'amore degne di una vita lunga 50 anni. Malgrado tutto lei non ha paura di parlare dei suoi sentimenti, anzi con la rivista Grazia si è soffermata per raccontarsi, uscendo allo scoperto su ciò che ha provato. In effetti l'attrice può sembrare inespugnabile a livello emozionale, un po' tenebrosa, decisamente camaleontica e sfuggente. Questa maschera che indossa però nasconde una delicatezza e una sensibilità davvero straordinarie. La sua vita da un certo punto in poi è stata controcorrente, esattamente come le passioni vissute nei suoi film, lei stessa ha dichiarato di aver sofferto molto per amore di di aver capito che all'inizio ciò che senti è il dolore, ma ogni minuto che passa capisci sempre di più che questa condizione ti renderà più forte e consapevole. Per questo motivo la star ha rivelato che non cambierebbe nulla del suo passato e che tutte le emozioni vissute le sono servite per crescere e diventare quella che è oggi. Del resto, è meglio soffrire che essere completamente insensibili no? In questo Kristen Stewart ha raccolto un bel po' di esperienza. L'attrice non si è limitata solamente a raccogliere successi come interprete, ma ha deciso che era il momento di uscire allo scoperto anche come regista. La sua grande sensibilità e maturità l'hanno portata a creare un cortometraggio di 17 minuti, chiamato come Svink che ha debuttato negli scorsi mesi e ha addirittura partecipato al festival di Cannes. Una rinascita sentimentale per Kristen Stewart. Dopo una serie di insuccessi amorosi, Kristen Stewart sembra aver finalmente trovato la sua anima gemella, Stella Maxwell, una modella di origini irlandesi coetanea dell'attrice. In seguito al suo coming out, avvenuto in concomitanza con l'annuncio della sua storia d'amore con Alicia Cargile, la star aveva avuto altre relazioni, tutte finite nel giro di poco tempo. Molti l'avevano definita un animo irrequieto, ma proprio quando sembrava che la Stewart non trovasse pace, è arrivata la sua attuale compagna che l'ha letteralmente rapita. Le due convivono già da diverso tempo in California e ora, si parla di un possibile matrimonio, alcuni rumors infatti avrebbero lasciato intendere che la coppia stia progettando una futura cerimonia, ma senza particolare fretta. Dopo tutte le sue sofferenze e le storie tormentate, forse è arrivato il momento per Kristen Stewart di deporre le armi e iniziare a vivere la sua vita sentimentale in completa tranquillità, chissà se anche il suo look seguirà questa strada o se continuerà a cambiare repentinamente, proprio come ha fatto negli ultimi anni. Grazie per la visione!